Sapete che non è un episodio della Pixelmon, se non sfidiamo fermi un attimo un bellissimo Bomasnow boss leggendario ragazzi Quindi benvenuti e bentornati in questo nuovo video, sapete anche che non è un episodio della Pixelmon Se non mi lamento sul fatto che i Pokémon non mi fanno girare le visuali Comunque ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovo episodio della Pixelmon Oggi, come avete visto, andremo a provare a catturare un nuovo Pokémon leggendario Perché l'ultima volta non è andata proprio così tanto bene Quindi mi raccomando, forza che mi piace, eliminiamo questa Bomasnow e ci dà una bellissima caramella Rara ragazzi, se notate vi ricordate abbiamo ben 6 a sto punto caramelle rare da poter utilizzare per catturare E per catturare no, per livellare un bellissimo Pokémon leggendario E io sono all'interno di questa foresta Perché in realtà avevo trovato una zona, appunto eccolo qua Una bellissima Master Ball da poter lutare in compagnia vostra Quindi io in questo momento prenderò questa Master Ball Però voi dovete lasciare un bel mi piace perché stanno tornando i video E voi siete super contentissimi che è tornata anche la Pixelmon Quindi forza che mi piace e so che tanti mi stanno guardando questi video ma ancora non sono iscritti Vediamo cosa è uscito Un Expo, ragazzi, interessante, ottimo, ottimo, ottimo Allora, possiamo tornarci indirettamente a casa ragazzi in questo modo Così possiamo fare tutte quante le nostre Ultra Ball Dato che l'altra volta abbiamo notato che erano veramente molto poche E io avevo già messo a cuocere qua altri dischi Quindi qua ho del ferro Ok, abbiamo un bel po' di roba ragazzi, abbiamo 31 dischi di ferro 32 pulsanti, ottimo E 27 Ultra Ball Quindi qua abbiamo uno stack E 12 ragazzi credo che ci bastano Sì, dai ce lo possiamo anche far bastare come Ultra Ball Però io direi, già che ci siamo Prendiamo anche tutto quanto il resto che abbiamo qui di ghiocche nere Di ghiocche gialle Magari quelle bianche no? Perché le odio sono completamente inutili ragazzi Comunque, mi raccomando Scrivetemi qua sotto nei commenti magari Quale vorreste sapere Magari quale altro Pokémon leggendario vorreste che io catturi per voi Che andrò a catturare ragazzi? Perché oggi sono proprio in vena In questo periodo sono super in vena Di andare a catturare nuovi Pokémon leggendari Allora dove ho messo le ghiocche gialle però? Ah, ho preso solamente quelle nere? Ma sono così tanto poco furbo? No, ah, non vedevo quelle già nell'inventario ragazzi Comunque devo leggere anche i vostri commenti e i consigli Per tutte quante le mosse Per la mia squadra di Pokémon ufficiale Però, già che ci siamo Cerchiamo di capire assieme Raikou che tipo soffre Raikou soffre tipo terra Quindi all'interno della squadra Pokémon tipo terra non ce ne vanno assolutamente bene Ed è resistente all'acciaio elettro e volante Quindi, allora In questo modo dobbiamo tenere conto che abbiamo già Dei Pokémon a 90 E adesso servirà sicuramente i Pokémon a 70 Direi che al posto del necrozma collunale Potremmo mettere magari un leggendario a 70 Che abbiamo per esempio Requaza Anche se lui se non mi sbaglio Dei attacchi tipo volante Vediamo, a Fly che dobbiamo ricordarci che è resistente Twister potrebbe essere molto utile Perché è tipo Drago Abbiamo anche una mossa di tipo terra Dove possiamo anche abbassarlo Quindi potremmo magari addormentarlo Adormentarlo col Dark Ray E poi magari attaccarlo con Requaza Abbassarlo un po' di vita E magari con uno stack e 12 di Ultra Ball Secondo me si è messi molto molto bene Prendiamoci una Rainbow Wing ragazzi E in più Già che ci siamo Prima di andare a fare questa battaglia Io volevo darle le mie caramelle rare Un po' al Mewtwo Giusto magari un 2 o 3 al Mewtwo Perché secondo me se ne merita Anche perché ragazzi Se vi ricordate Abbiamo sbloccato l'altra volta Il fatto che Mewtwo potesse diventare Potesse trasformarsi in un Mega Mewtwo Y Perché abbiamo trovato la Mega Pietra All'altare E io oggi In compagnia vostra Prima di andare a sfidare Questo bellissimo Pokémon leggendario Che è Raiko Volevo vedere se in giro ci fosse Magari un Pokémon abbastanza forte Per poter magari sfidare Questo Mewtwo di tipo Y Di che che abbiamo? Che dite che abbiamo Un Meo con un Girafari Che non ci interessa Abbiamo un Yamper Yamper vieni qua A questo punto Yamper ha il 10 Volevo solo vedere la Mega Evoluzione Il Mewtwo Che ovviamente è buggata Dannazione Perché non mi fa girare la visuale Allora Quindi tecnicamente Se noi Mega Evolviamo il Mewtwo E facciamo Laser Focus Che è un attacco che non fa danno Che bello Mamma mia ragazzi Peccato che è di dimensioni piccole Il Mewtwo che ho scambiato Però che bomba È minuscolo ragazzi Cioè praticamente è più lunga la coda Che il resto del corpo Ecco questo qua è il modo massimo Il proprio La visuale perfetta Con cui riusciamo più o meno a vederlo È veramente molto molto carino Andiamo di Anselm Power Facciamo fuori questo Yamper Che non mi interessa più Mew per far Ok eliminiamo anche Meo E siamo pronti ragazzi A andare direttamente Dove vogliamo andare a catturare Il nostro bellissimo Raiko Tempio dei cani Molti voi ragazzi Ehm ho sbagliato? No ok no Siamo giusti Non mi ricordavo fosse direttamente qua sopra Allora riesco a fare questo salto? No Dicevo Molti voi ragazzi Mi hanno detto Marco come fai a fare questa cosa Che prima un pulsante Si va in questa In questa schermata Che ti teleporta in giro Non è una mod ragazzi Della Pixemon È un'altra mod esterna Che mi aiuta appunto Ad avere dei punti Dove posso teleportarmi in giro Per il mondo Che mi salvo Ed eccoci qua ragazzi Al tempio dei cani Che è diversa Della Ultralega ragazzi Se vi ricordate È molto simile A livello di struttura Ma a livello di colore Di interni È completamente diversa Allora Non so Se funziona Il fatto che io possa spawnare Un Pokémon legionario Dove già abbiamo spawnato Entei Sono molto curioso Di scoprire questa cosa In compagnia vostra Però Ragazzi Se io dovessi premere Sopra Perché non funziona Aiuto Sono incassato qua sotto Calma Cerchiamo di scoprirlo assieme Dove è finita la scala? È vero Mi sono dimenticato di una cosa Ragazzi Mi serve per forza L'O-O-O Con la migliore Con diciamo La felicità al massimo Che già ho Perché l'altra volta L'ho spawnato entei Però non mi ricordavo Dove si dovesse tenerlo in squadra Quindi Se facciamo così Tecnicamente Ehi Raikou Raikou Non dimmi che ho bisogno Di un'altra torre Che ce l'ho Però cavolo Voglio utilizzare questa Posso fare Suicun? No Non posso ragazzi Dannazione Che sfortuna Ok Allora Facciamo così ragazzi Andiamo in un tempio nuovo Che mi sono tenuto da parte Allora Qua tecnicamente La nostra Rainbow Wing Dovrebbe funzionare Sopra la statua del Raikou Quindi speriamo Che ci esca anche Magari di qualche dimensione Bella importante Bella grande Allora Raikou Vieni qua da me Allora Tecnicamente Ora Vediamo se Spunare Suicun Raikou Perché avevo detto Fino ad ora di Raikou Però anche Suicun Cavolo è bellissimo Allora Andiamo di Raikou Vediamo Ok ragazzi Sta funzionando Vediamo Raikou Quanto ci sciura Magari anche di dimensioni giganti Bello raga Allora Vediamo se riusciamo a catturare Ragazzi Secondo noi abbiamo Un bel po' di Ultra Ball Però è bello ostico Sto davantissimo Raikou E anche di belle dimensioni Io spero che ragazzi Mi esca sempre Più o meno Di questa stazza Se lo possiamo definire così Però è addormentato Ho già finito i Dark Void Ottimo Grazie Dark Ray Grazie mille Allora Lo vedo bello che Ha guerrito questo Raikou Perché non vuole entrare Dentro le Ultra Voglio già Poi ritoccarlo Con questo Dark Ray Perché già lo shottiamo Se no Allora Non vuole entrare Ok interessante Allora facciamo così Cambiamo Pokémon Perché c'è un Manetrick Che dà fastidio qua sotto Allora andiamo di Palchia Che lui è super efficace Contro noi tecnicamente anche Quindi con calma Con cosa andiamo Andiamo con Water Pulse Che non dovremmo fargli molto Che è interessante Dicevo Essendo Palchia Che è Tecnicamente Di tipo Acqua Drago Lui è super efficace Contro noi ragazzi Se fanno attacco di tipo Letro Quindi con molta calma Guardiamo dove cade la Ultra Ball Lui continua ad usare Owl Non sembra avere Dei attacchi molto forti All'interno della sua Diciamo Di come è fatto Di appunto Di come è spawnato Non è che ci vada più di tanto bene così Però vediamo se magari ha un Discharge O ha un Vault Switch O qualche attacco del genere Sarebbe veramente Molto molto utile Comunque Raiko Diciamo che è il mio secondo Insieme a Suiko In realtà Diciamo che è lente Il mio Pokémon Di leggendario cane Che mi piace veramente tantissimo Gli altri due Un pochino di meno Ma sono comunque belli Il vostro ragazzi Qual è il vostro preferito Di tre cani leggendari Scrivetemelo questo nei commenti Mentre cerchiamo di catturare Questo dannatissimo Raiko Che non vuole entrare Io non posso neanche più toccarlo Perché una vita talmente tanto rossa Che se li facesse Un'altra mossa col pacchia Non è che Potrei fare una mossa Così tanto intelligente Allora Continuiamo qua di Ultra Ball Tanto noi abbiamo Tecnicamente uno stack e 12 E spero Che uno stack e 12 ragazzi Riesca a entrare dentro La mia dannissima Ultra Ball Però lui continua Non a carci Sembra un Raiko gentile Sembra Più o meno Anche se cade dentro Alla nostra bellissima Ultra Ball Guardate Appena scende Esce subito il campione No un giro Un giro Raiko Ha intenzione di entrare O stiamo qua un'ora e mezza Perché qua C'è delle cose da fare C'è una pixabon da portare avanti No Lui vuole fare due giri Lui se ne frega altamente Non ne frega proprio nulla Di quello che stiamo facendo Quindi uno Due Ancora due giri A quanto pare ragazzi La maledizione dei due giri Dopo due settimane Non si è sbagliata Questa maledizione Allora ancora un giro Ma Palchia Non è momento E palchia Sì Raiko Non è momento Dannazione di star qua A fare i conteggi Due giri Ancora due giri Dai ma c'hai la vita rossa Ma io cosa posso fare Più di questo Raiko ti prego Per favore Entra Raiko Dai non ho tempo Raiko ti prego Devo catturarti Devo stare qua un'ora e mezza A finire le Ultra Ball Devo utilizzare una Beast Ball Guardate che la uso di ignoranza No cavolo Era il terzo giro Allora Perché appena hanno mirato la Beast Ball Lui si è spaventato sicuramente ragazzi Più o meno Beast Ball Beast Ball Beast Ball No non funziona Dannazione non funziona Dai Raiko ti prego Entra dentro questa Non posso più attaccarti Non posso più toccarti Dai ti prego Se avesse delle mosse belle forti E fosse anche bello Opposente Alla distanza Non sarebbe male D'avere in squadra Non poter migliorare Perché comunque Un Pokémon di tipo Letro E non abbiamo dei leggendari Tipo Letro forti Se non I due Zapdos Cioè quello normale Quello di Galarian Però Onestamente Se dovessi scegliere Tra Zapdos O Galarian Zapdos E avere un Raiko in squadra Io a livello affettivo Non so perché Ma mettene un Raiko Voi ditemi la vostra Qua sotto nei commenti Che magari Poi vediamo anche Che attacco speciale ha Se ha una difesa speciale Se è veloce Queste cose Però a quanto pare Lui non ha mosse utili Ragazzi Perché notate Che continua A non attaccarmi Questo palchia E Sta usando charge Non ha mosse Che mi fanno del danno A quanto pare Questo Raiko Vabbè Allora Proseguiamo ragazzi Terzo giro Terzo giro Al terzo giro Al terzo giro Uscito Dai che ce la possiamo fare Però ragazzi Questo è un buon segno Tecnicamente Però lui se finisce le mosse Sapete che fa Ci saluta Va al bar Prende un caffè E non possiamo più catturarlo Allora Terzo giro Al terzo giro Dai per favore Ma a parte che però Prima mi ha abbassato La vita del Dark Ray Se non mi sbaglio Quindi due tecnicamente Delle mosse Per fare del danno Le ha Ma non le sta usando Vabbè Vabbè Poi dopo controlliamo Per bene Sempre se riuscissimo A catturarlo Anche perché Non vorrei più failare Il fatto che Continua a eliminare Leggendari Dopo l'ultimo episodio Dove ho provato a catturare Sia Landorus Che Verizon O Virision Chiamatelo come volete E non sono riuscito A catturarlo Raiko Per favore Puoi entrare Dentro a questa Danatissima Ultrabole Smettiamo di fare Questa tiritera Dove sto provando A catturare Un'ora e mezza Raiko Uno Dai Raiko Ragazzi Però la Pixamon È veramente Io mi lamento Ma ancora dopo due settimane Perché non hanno fixato Il fatto che Scende ed esce subito E ha vita rossa Ha pochissima vita Non ha senso Questa cosa ragazzi Proprio a livello storico Dei Pokémon Se ha così poca vita Non può scendere La Ultrabole Danazione Che è una delle Bowl più forti Insieme alla Master Per queste cose qui Ovviamente non la so Se arriva dalla Master Però dai cavolo Non è possibile Questa roba è scandalosa Danazione Vai proviamoci ragazzi Proviamoci Allora uno Due Dai Ancora Ancora Sta usando calmamente Lui Altro che calmamente Qua ci vuole una camomilla Uno Due No dai dai Ti prego Entra dentro una Ultrabole Ti prego Raiko Per favore Fallo per l'umanità intera Due Non vuole entrare Va bene Va bene Va bene Ci sto eh Il fatto che c'è un pubblico qua C'è una Pixamon Da portare avanti qua Terzo giro Riproviamoci Dai che ce la possiamo fare Ragazzi ce la possiamo fare Uno Sì Domani ce la possiamo fare Neanche con un miracolo Entra dentro questa Ultrabole Raiko Lo dico io ragazzi Credo che sia il leggendario Più ostico Che io stia provando a catturare Da un'ora e mezza Cioè ragazzi Qua non entra dentro la Ultrabole Uno Due No ragazzi Cioè non può essere come Zaccia Anche ci ho messo Due minuti No Ho appena sprecato Ben 45 Ultrabole Ragazzi Non ho mai utilizzato Così tante Ultrabole Per un Pokémon leggendario Cioè neanche Eternatus È stato così tanto un parto Da dover catturare ragazzi L'abbiamo preso come una Quick Ball Vi ricordo eh Uno Due No Allora io a sto punto Vado d'ignoranza ragazzi E io so già Che lui entrerà In questo momento Con questa Friend Ball Io me la sento ragazzi Di Friend Ball Sì Domani Io a sto punto Provo con tutte quante Le Ball che abbiamo Con tutte Le provo veramente con tutte Uno Due Tre Quattro Di Timer Ball Electric Doggo È entrato in squadra Ragazzi ve l'ho detto Serviva ragazzi Una mossa Ciao bellissimo Pokémon Era un Manetrick Ma era un Come si chiama quello Non mi ricordo ragazzi Come ti chiami Era un Ball Tand Ok ragazzi Ve l'ho detto La tecnica Era testare Tante altre Ball Dopo aver sprecato Ben Avevo uno stack E 12 Io ho sprecato Ben Quindi avevo 76 Meno 31 Fa 45 Ragazzi Ho sprecato 45 Ultra Vuole una Friend Ball Anche Però abbiamo catturato Un Raiko Finalmente ragazzi È stato un bel parte È stato bella che difficoltosa Come situazione Quanto abbiamo anche un allenatore Buongiornissimo A livello 11 Scappa Perché è meglio che scappare Perché ho appena catturato Un Raiko Non un Dark Kray Ma un Raiko Con una bellissima Timer Ball Vediamo Andiamo di Timer Ball Vediamo qua Allora Si può cavalcare ovviamente A bassa vita Come notate da qua ragazzi Però va bene Va bene Ma quanto è veloce Urca Potrebbe essere veloce A livello di stats Vediamo un attimino Questo Raiko A livello di stats Allora Dimensioni small Ah Ok va bene Allora Charge Oh il Calm Mind Non ha nessun attacco Ragazzi Che fa danno Come abbiamo notato prima Allora All'attacco speciale basso Alla difesa speciale alta Questo dovete dirmi voi Se è una cosa ottima Però è una buona sfida Quanto pare Vabbè Ragazzi Spero che questo video Qua della Pixelmon Vi sia piaciuto Vi dovete lasciare Un mi piace O un commento Ah iscrivetevi al canale Se non vi è fatto A scegliere uno dei video Qua davanti E finalmente Abbiamo distrutto la maledizione Del fatto che non riusciamo Più a catturare Nessun Pokémon Leggendario Mi raccomando Iscrivetevi E attivate la campanella Di queste quante notifiche E scegliete uno dei due video Qua davanti E da Marco è tutto ragazzi Ciao ciao Ciao